eh senza parole tutti mi dicono che lavoro fai mi occupo di allungamento dei capelli e i tuoi capelli eccoli qua eccoli qua il vezzo per gli uomini questa novità non è una novità è proprio un cambiamento di costume perché se una persona è calva non è detto invece di mettersi un cappello si può mettere eh dei capelli che bello il vezzo guarda anche portare questi capelli è il sogno eh degli uomini nel senso quegli uomini che ce ne hanno pochi però non sanno come gestirli quindi oggi questa puntata un po' frizzante un po' divertente è che eh possiamo cambiare la nostra immagine così le persone ci possono dare un giudizio nel senso che percezione può avere una persona a a un certo tipo di comportamento il comportamento oggi del callori così come lezione per apprendimento eh psicologia della moda che stiamo sviluppando non più da solo ma con varie collaborazioni divertente perché riportare la psicologia applicata dentro il pari del carriere in questo periodo è fondamentale ci siamo fatti qualche anno chiusi dentro casa e credo che siano nate talmente tante fobie che cerchiamo di aiutare nel nostro piccolo partendo dai capelli quindi come migliorare l'autostima partendo dai capelli eh ricordo sempre il libro lo potrete trovare in amazon o nel link eh qui sotto la descrizione quindi oggi eh è stata un pomeriggio qui a Roma sta piovendo in un modo incredibile è arrivato tantissimo freddo quindi oggi io personalmente invece di indossare il cappello che uso lavorando perché non usare un'integrazione capillare e divertirmi un pochino ho postato delle foto in bianco e nero e sembrano veramente come eh la barba allora io vorrei eh i miei amici o anche non i miei amici hanno detto che assomiglio a qualcuno però non mi hanno saputo dire che cosa allora lancio qui sul canale eh a chi ha posso assomigliare con i capelli lunghi c'è un piccolo spot che adesso nel finale ve lo faccio vedere eh quello che sono prima e quello che sono dopo questo non è altro per far vedere che possiamo cambiare la nostra immagine in qualsiasi momento bisogna solo volerlo e facendo un'azione ben precisa ci possiamo accorgere se è giusto per noi o non è giusto bene grazie spot pubblicitario capelli da indossare mtc parrucchieri Tor Vergata via di Tor Vergata a 39a vi aspetto i miei numeri li troverete sempre nella descrizione iscrivetevi alla campanella così nelle prossime edizioni straordinarie con capelli da indossare potrete essere aggiornati a tutto quello che stiamo facendo allora poi vorrei una piccola postilla quello che sto scrivendo sotto le descrizioni sto sperimentando l'intelligenza artificiale gli faccio delle domande e lei mi dà delle risposte e nelle descrizioni sono fantastiche perché è un nuovo modo di comunicare ma questo ne parleremo a qualche altra puntata dedicata a l'intelligenza artificiale che si abbina con le emozioni però vi dirò ciao 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 ciao